Musica Ben ritrovati cari amici telespettatori con Telepordenone e soprattutto con Ail News come continua la nostra stagione nell'intento quest'anno più che mai di proporvi delle informazioni della comunicazione che riguarda il movimento che ha l'Associazione Italiana dell'Eucemia preceduta dal Presidente Aristide Colombera vuole contribuire perché è importante capire anche dove vanno a finire le donazioni che vuoi in tanti e per questo vi ringraziamo infinitamente perché aumentano grazie forse anche a questi messaggi che noi portiamo sicuramente ma anche grazie a tante persone che dedicano il loro tempo volontariamente e soprattutto alle persone che hanno capito chi siamo e cosa facciamo ma in questo contesto chi siamo e cosa facciamo ho il piacere e l'onore di avere ospite della nostra rubrica la dottoressa Mineto. La dottoressa Mineto ci saluta, tanto andremo anche in replica qui nella trasmissione che vedrete a tutte le ore, perché potrete vedere a tutte le ore? Perché all'ilà di Telepordenone la programmazione del venerdì sera e di sabato mattina voi andate nel canale YouTube Ail Pordenone e la vedete quando volete, di sera, di notte, di notte, che vi consiglio ma non tanto per pubblicità quanto per i contenuti che andremo a esporre adesso attraverso la dottoressa Mineto. Spiego il cappello, siamo nell'ospedale Civili Pordenone nel reparto di pediatria, la dottoressa Mineto è la psicoterapeuta della struttura semplice dipartamentale che fa parte un'equipe, l'equipe dell'assistenza domiciliare pediatrica, terapia del dolore e delle cure palliative, che è gestita dalla dottoressa De Zain che avremo modo anche a suo tempo durante il proseguo della nostra stagione magari di intervistare e che già enunciamo nel periodico. Dottoressa lei mi ha anticipato una domanda che volevo già farle sulla distrazione, come passa il tempo questo bambino all'interno dell'ospedale e la ringrazio perché l'altra domanda era quella che volevo farle un po' personale nel rappresentare l'Aile, quanto importante è appunto la nostra associazione nel contribuire e nel proseguire le vostre idee, perché credo che un'associazione, ce ne sono tante altre che danno una mano nell'assistenza domiciliare pediatrica, però per onor di cronaca e per onestà intellettuale bisogna dire che l'Aile è una di quelle associazioni e qua mi sento di farlo in maniera giornalistica ma pulita, al di là del ruolo che ho, sia un'associazione che contribuisce ma in maniera cospicua e lo possiamo quantificare quando volete, tanto è tutto trasparente e onesto con conti alla mano e bilancio alla mano. Quindi queste due domande del tempo, come trascorre il tempo, l'uso della tecnologia ovviamente che il bambino avrà in ospedale e a casa e soprattutto un promo che lei ha già anticipato, quello del progetto del sollievo che ci onora e che ci fa tanto piacere proseguire come tante altre cose. Il tempo che può distrarre il bambino è un tempo che va curato perché non è facile riuscire a distrarre i bambini, certo tutto quello che è mediatico aiuta, quindi questi bambini sono bambini che hanno tanto tempo vuoto, a scuola non vai, stai a casa tante ore, quindi sicuramente tutti gli strumenti, il tablet, la tv, tutti questi strumenti molto mediatici sono importanti, però noi sappiamo che non sono una soluzione vincente se vengono usati tanto, quindi è importante per noi riuscire a trovare delle distrazioni significative. In ospedale quando i bambini vengono c'è un progetto che è la biblioteca di Sara, lo nomino ad onore proprio di questa iniziativa perché ci sono delle volontarie che vengono in ospedale, che vengono a leggere, che passano il tempo con i bambini, distraggono la mamma, danno l'opportunità alla mamma di andare a bersi il caffè, piuttosto che il progetto anche della buonanotte, c'è un bellissimo progetto che una volta alla settimana viene fatto, ci sono delle volontarie che vengono alle otto e mezza di sera per leggere le favole della buonanotte ai bambini e questa è una bellissima iniziativa, è tutto in linea con la volontà di poter creare degli spazi di distrazione che siano anche costruttivi per i bambini perché come vi ho detto prima tutto il mondo mediatico a volte diventa veramente usurante e anche distruttivo per certi versi, dare invece la possibilità ai bambini di stare in una dimensione di gioco che può essere la lettura ma può essere il disegno, abbiamo anche i clown che vengono in ospedale, che vanno anche a domicilio e questo lo sottolineo, dei nostri bambini che danno spazio alla leggerezza, un altro tema importante dove queste malattie portano tanta pesantezza, invece riuscire a portare la leggerezza che come immagine vi regalo un po' la bolla di sapone, il tempo della leggerezza, queste sono famiglie e bambini che ne hanno bisogno. Io credo che l'AIL, torno alla seconda domanda velocemente, credo che l'AIL da sempre abbraccia questa struttura semplice dipartimentale che è nata come progetto nel 2011 e che l'AIL subito con le macchine per esempio, ma questo lo sapete sicuramente, noi abbiamo due macchine e se non avessimo due macchine non potremmo andare a domicilio perché in realtà questa cosa sarebbe molto complicata da gestire con l'azienda, dovremmo fare i conti con macchine che devono essere gestite anche da altri, quindi dovremmo inserirci, invece noi abbiamo la nostra autonomia, quindi usciamo, andiamo, andiamo alle 8, andiamo alle 7 e mezza, andiamo alle 4 e mezza, alle 8 di sera, quindi con una libertà eccezionale. Per esempio questo, ma poi l'AIL, come dire, io che faccio questo lavoro di analisi dei bisogni, quindi il bisogno del sollievo e dare queste ore di sollievo a casa, a volte ci sono dei bisogni anche economici, noi abbiamo altre associazioni che ci aiutano in altri modi, però l'AIL sottolinea sempre, e qua nomino il presidente che sta un po' al vertice, anche se non vorrebbe, che è Aristide Colombera, lui sempre, da sempre ci dice se ci sono delle situazioni che voi valutate, che possono aver bisogno di un intervento, di una presenza, di un sostegno che è apparentemente solo economico, ma in realtà è un sostegno dove la famiglia, per un cambio di ruote, per l'inverno, perché deve andare a Padova a fare le terapie del figlio, piuttosto che a Trieste, per sempre per le terapie del figlio, piuttosto che a Bergamo, insomma i centri di terzo livello con i quali noi lavoriamo sono tanti, Milano, insomma questi genitori, avere qualcuno che dal di fuori ti dice guarda non pensarci te, non ti preoccupare, ci pensiamo noi, è una grande risorsa e l'AIL in questo è sempre tanto presente e quindi mi piace questa opportunità che mi dai di nominare le cose, non è solo questo, in realtà per noi operatori è anche il sapere che se vediamo qualcosa che non è facile per la famiglia, possiamo sapere che dietro di noi c'è, esatto, c'è qualcuno che ci aiuta e c'è qualcuno che è l'AIL, ma che sappiamo che dietro non è solo l'AIL, ma c'è tanta gente che va a prendersi la stella di Natale, piuttosto che l'uovo di Pasqua, piuttosto che tutte le iniziative del burraco, delle cose che l'AIL fa per poter raccogliere questi fondi. Io la ringrazio e prima di chiudere volevo sottolineare un particolare oltre i complimenti che ci ha fatto al Presidente Ristri Colombera che ha avuto l'intelligenza e la sagaccia di costruire un gioco di squadra perché al di là dei volontari all'interno del Consiglio, all'interno dell'organizzazione, quella più pratica ed efficace, ci sono persone che fanno grande questa organizzazione e soprattutto ottengono grazie a questo dei risultati eclatanti che ci permette poi insieme ai grandi volontari e alle donazioni di raggiungere questi risultati. Quindi un gioco di squadra mirabile e soprattutto grazie anche, lo dico io, lo dicono le persone che ci fermano per strada, anche adesso a Pordenone Legge ho incontrato persone che hanno testimoniato anche attraverso il sottoscritto la presenza di AIL in televisione, nel giornalino e le notizie, quindi credo che anche una comunicazione, che ripeto, l'ho sempre detto con molta onestà e con molta sincerità, non lo facciamo per pubblicità, lo facciamo per informazione corretta perché credo che questa, l'informazione e la comunicazione è fondamentale, lo dice una persona che purtroppo vive, purtroppo nel senso perché vedo tanta comunicazione e talvolta la vedo errata e soprattutto fasulla da punto di vista della quantità. Noi cerchiamo, ecco il vostro aiuto, ecco i vostri consigli anche del personale medico e chi ci circonda, di darne un'informazione quantitativamente positiva, che non sia fasulla ma che sia concreta e costruttiva. Quindi vi invito, quando andrete a vedere questa trasmissione, di diffonderla, ve la manderò anche via mail, ma non solo, ma cercate di ascoltare, perché non me, ascoltare quello che ha detto la donessa Mineto che ringrazio per la presenza della nostra rubrica e per quello che fa per tutto questo mondo e la vicinanza con AI. Diffondete queste notizie, avete la possibilità con i mezzi tecnologici di farlo e basta un po' di pazienza, schiacciare un bottone e andare a vedere questo file e soprattutto su YouTube il Pordenone e diffondetelo, perché è importante collaborare per un obiettivo che è quello di aiutare persone che hanno bisogno, sono meno fortunate. Tra l'altro, ha sottolineato la dottoressa Mineto, l'aiuto viene dato anche economicamente alle famiglie non solo con la partecipazione di progetti medici e di altro. Quindi abbiamo anche un'altra auto a disposizione nella nostra sede Casa del Volontariato che viene utilizzata anche, diciamocelo francamente, per situazioni che non riguardano solo l'ematologia ma anche altre situazioni. Quindi, dottoressa, la ringrazio infinitamente di essere stata qua con noi grazie a voi per la paziente ascolto e spero vi abbia fatto cosa gradita e noi ci risentiamo con Telepordenone, Ail News e nelle prossime puntate informative di conoscenza. Grazie ancora, buon proseguimento di visione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.